Siamo alla prima giornata di ritorno del campionato di seconda categoria giorni B. L'Atletico pomarico sfida fuori casa il Marsico Nuovo, un pomarico in emergenza visti i molteplici giocatori infortunati, ma che comunque risponderà positivamente nonostante gli assenti. La partita inizia male per il pomarico quando gli avversari sigleranno due reti nell'arco dei primi 10 minuti, ma l'Atletico come abbiamo visto in molte altre partite è una squadra che non molla mai. Infatti al trentesimo Angelo Montano segnerà il gol del 2-1 su calcio di rigore, accorciando così le distanze. Il pomarico dopo il gol prende coraggio e prima dello scadere della prima frazione di gara il giovane Michele Tria segna il gol del 2-2 con una fucilata in diagonale dove il portiere avversario non può far nulla. Nel secondo tempo il pomarico cerca di vincere la partita con Centonze che aggredisce tutti i palloni smistandoli ai suoi compagni di squadra. Nel momento migliore del pomarico il Marsico cerca il colpaccio con un tiro insidioso che viene fermato con una prodezza dal portiere Mancino che salva così il risultato. All'ottantesimo un giocatore del pomarico viene steso in area avversaria e l'arbitro assegnerà un calcio di rigore. Sarà ancora Angelo Montano il marcatore che siglerà la terza rete. La partita poi finirà con il risultato di 3 a 2 per i pomaricani. Dallo studio è tutto, ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti.